Oggi vi presentiamo il nostro centro di lavoro manuale modello multifunzione TOP. Questo macchinario, ideale per la produzione di piani da cucina, piatti doccia e scale, permette di effettuare varie lavorazioni. Foratura di lavabi utilizzando una corona diamantata per taglia passate, con e senza sagoma. Foratura per montaggio rubinetti, bisellatura, sagomatura, profilatura e lucidatura delle coste interne ed esserne. Creazione di sgocciolatoi e piani inclinati, tagli dritti e inclinati lungo gli assi X e Y. Questo modello è progettato per fare lo stesso lavoro di un costoso centro di lavoro a controllo numerico, ma tutte le operazioni sono effettuate manualmente dall'operatore. Il risultato finale, in termini di precisione e accuratezza, è lo stesso come se fosse stato realizzato con macchinari sofisticati. È una soluzione progettata e studiata su misura per i piccoli marmissi, che producono qualche cucina al mese e a volte hanno bisogno di rettificare la superficie, profilare e lucidare la costa autonomamente. Il modello TOP è una macchina multifunzione che permette di eseguire una grande varietà di lavorazioni. L'unico limite è legato alla fantasia dell'operatore. La macchina è personalizzabile e può avere diverse dimensioni di lavoro. Il modello che stiamo osservando oggi ha una corsa lungo l'asse X di 3200 mm, mentre lungo l'asse Y la corsa è di 1600 mm. Contattateci per conoscere gli altri modelli disponibili. Comunicandoci le vostre esigenze, troveremo insieme il modello più adatto. TOP è una macchina a monofase con motore da 4,5 CV e velocità regolabile da 1500 a 10.000 giri al minuto. Il telaio è costruito in robusto acciaio galvanizzato, con guide in acciaio inossidabile. Il piano di lavoro è realizzato in acciaio di spessore 5 mm ed è dotato di appositi fori per consentire il fissaggio dei pezzi, tramite morsetti e appositi supporti regolabili in altezza. Il potente elettronandrino è pressurizzato in modo da eliminare la condensa all'interno e garantirne una lunga durata. È inoltre dotato di lubrificazione esterna automatica. La movimentazione della testa è manuale e la profondità di taglio è regolabile tramite volantino. A richiesta TOP può essere dotata di rotazione della testa in quattro posizioni. 0, 90, 180, 270. Il vantaggio principale di questa opzione è la possibilità di montare un disco con diametro massimo di 200 mm che permette di tagliare a 90 gradi e 45 gradi su entrambi gli assi. La possibilità di inclinare la testa a 90 gradi permette inoltre il montaggio di clatorelli per la lucidatura della costa dritta. La maggior parte delle operazioni vengono effettuate seguendo una sagoma in metallo oppure in legno, da posizionare sopra la lastra. L'utensile è montato su un porta utensile speciale con un tastatore che permette di seguire perfettamente la forma della sagoma. Siamo a guardare gli altri video che abbiamo realizzato per mostrarvi in dettaglio il montaggio e l'utilizzo dei vari accessori e dei vari utensili. Noterete come è semplice e veloce utilizzare questa macchina per la realizzazione di un progetto completo. Rimaniamo comunque sempre a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento, domande e o dubbi. Grazie dell'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.